Musica Buongiorno a tutti ragazzi Comuni al suo staff di www.letsplayfifo.it Link qua c'è una facebook al nostro sito in descrizione E li avete visti Ibraif, CR7 Sif E il più forte difensore della serie A Erto Abbiamo richiesto esplicitamente Erto Piuttosto di qualunque giocatore ci avessero dato Perché vogliamo portarvi le review sui giocatori della serie A Almeno una ogni morta del papa Ci piacerebbe farla E quindi abbiamo chiesto Erto Cosa numero 1 Penso che 800 mi piace Siano d'obbligo per questo episodio Se non ci arriviamo mi incazzo questa volta Mi dispiacerebbe molto E soprattutto per questo attacco che è formidabile Seconda cosa Ci sarà solo una partita molto lunga Ma solo una partita Perché purtroppo sono preso con l'acqua e la gola per un esame E quindi non posso stare più di tanto a computer E sulla computer e sulla Playstation Nei prossimi video penso arriverà anche la facecam Soprattutto diteci chi volete che recensiamo per primo Se Ibra o CR7 La review arriverà penso domani sera pomeriggio tardi Per impegni universitari Andiamo col primo match e speriamo di non prendere 4 peri Visto che è diventata la frase simbolo di questo Proviamo gli inform Moikorts FC Bestia che squadretta ragazzi Mamma mia E allora adesso Ibra e Ronaldo devono mettere i loro primi gol Subito secco e devono farci vincere questa partita Subito Ronaldo Nuovo acquisto della Corea del Sud Niente non va Messa in mezzo per Coentrao che va di testa Niente In vilà mette in mezzo Per... No Cioè anche un secondo dopo non aveva ancora realizzato che non era gol Perché Porca troia Dai cazzo ma Ti manca un sacco di scatto Ibra E adesso corri Verso l'infinito e oltre No si no no dai No dai ma questa è sfiga Grazie gol technology Sul la LAN Alta che se suga Al volo Al volo Saltato non con la finta Con lo scattino della minchia dopo Vaffanculo Vaffan... Grande Perin Caveglio davanti gli occhi Vado giù Mamma mia ragazzi Ma quanto banali siete Cioè per carità Poi dopo perdo contro di voi Perché io sono un pirla però Grandissimo Grandissimo Grazie Andiamo Easy Easy Pallone dentro Scatto Tiro easy Gol Grande Quella maglietta della Corea del Sud È proprio perfetto Guarda Sezzanghe Bam Ma adesso corri anche dritto per dritto Ma dai ma dai Al volo Al volo che gol Mamma mia che gol Mamma mia che sale Che missile Mamma mia che missile Oddio Fatemelo rivedere Boom Ma perché vai dritto Nesta qua Anticipi Eccetera eccetera È il numero uno Uh Bella Vabbè Vabbè Questo ci sta anche Oddio Cioè Che ha sparato tra poco Che sparava tra un poco No Ma dai Ma non è possibile Dai Due a zero E sto qua Fa due tiri Cioè Di testa così A caso Pallo Ah fine Ah fine Cioè sì Scusami Non avevo messo in conto Che era il quarantacinquesmo Riprendiamo Sta partita Vabbè Sempre dritto Sempre dritto Dai Andiamo sempre dritti Dio santo Saresti Veramente Ti sparerei Ok Non ho sbagliato La difesa Tre Ma perché gli devi tirare una Cannonata di incrociamento Fallo Rigore Eh Che magari ha altro Mi darai un cartellino Magari Tipo Forse Neanche Ma Cioè Così A caso Dico Magari un cartellino Ci potrebbe anche stare No Grande Ibra Cazzo 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 Ci ha messo 15 anni A stoppare un pallone Per poi dover fare la troiata Là Mamma Cosa ha toccato Neuer Cos'ha toccato Neuer Mamma mia Sei veramente Il re della merda Isfatto Della sua gara Sotto tono Pierre Succede L'importante ora è Rimuovere Voltare pagina Subito Cazzo Grandi passaggi Come il Barcellona Di Pep Vecchio Non so se hai capito Ma sei il numero ultimo Al volo Un'altra botta Niente Ma perché A lui Perché 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 Mangiamelo 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 Mangia il melo Poi non mi dà l'uomo Per andare di test Ovviamente mi porta Sul difensore È finita la partita Mangiamelo 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 E allora siamo usciti Vittoriosi da questa partita Contro il numero ultimo Quindi commentate Con hashtag Sei il numero ultimo Se volete Sostenere questa Iniziativa A favore Dei numeri ultimi A sfavore O favore Come volete dirla 800 mi piace D'obbligo E parliamo dei giocatori È stata una partita È stata una partita In cui non ho capito Come usare i due giocatori Ho visto che Ibra Almeno Non mi è sembrato Così tanto Devastante Come l'anno scorso Dove era il mio giocatore Preferito Ma comunque Sono due giocatori Che fanno veramente Paura Cioè fanno spavento Poi comunque C'è Erto Che qualche intervento Difensivo l'ha fatto Però devo concentrarmi Su di lui In una squadra Dove magari Non ci sono Ronaldo e Ibra Perché sennò È come avere un bel paio Di tette davanti E spostare la testa Per guardare la vecchietta Dietro le tette Non dico che Sono le tette Della vecchietta Cioè capitemi Però È un po' un controsenso È un po' come montare Come ho detto l'altra volta Il motore di una cosa No non so cosa sto dicendo Insomma Avete capito Che devo tornare a studiare Perché sennò Veramente Non passo l'esame E non mi laureo E dopo Finirò A farlo spazzino E quindi Grazie per i like Speriamo che il video Vi sia piaciuto Commentate con chi volete Per chi volete Che recensiamo Come prossimo Giocatore E bye bye